Parliamo di quel giorno al mare. Katrina! Mi vuoi sposare? Cosa è successo? Katrina! Dopo quel giorno hai mollato tutto. È così, Mitch? No, non proprio tutto. So esattamente cosa fare di te. Che devo sapere di lui? È un guerriero. Il migliore che abbia incontrato. Hai visto cose orrende e ora vuoi uccidere i terroristi? Mi sbaglio. Uccidimi. Pensate che potrei tagliare la gola a un uomo così? Solo al cinema. Sta facendo scintille. Velocità, concentrazione, fuori dal normale. Ne ho vista di gente così. Non come lui. Ti ritieni speciale? Mai farla diventare una cosa personale. Secondo te che ci facciamo qui? Uccidiamo chi lo merita. È pronto, Stan? No, non lo è. Ma lo sarà. Tu devi fare quello che ti evita io! Questo è solo un mezzo per raggiungere il tuo scopo, vero? Questo è solo l'inizio. E' solo l'inizio. E' solo l'inizio. Ci ens crediamo qui. Grazie a tutti